di case finali di Cessena e i volontari di Opeano e Granzette che fanno clonterapia negli ospitali. Vi vedo lì, ma continuate a fare questo che fa tanto bene agli ammalati. Salutiamo a questi bravi. A tutti auguro una buona domenica nel ricordo cristiano dei nostri cari di affluxo. Per favore non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.